Io quello che ho notato è che con lei si è applicato sempre un metro che non si è applicato su altre persone. In che senso? Faccio un esempio. Piove, decidono di ballare sotto la pioggia. Era novembre, lei decide di ballare insieme a tutti gli altri, ad Alex, a Davide. All'inizio era l'unica che ballava sotto la pioggia, poi è arrivata un secondo. Ma fammi finire. Ma fammi finire. Ma posso finire una cosa? Sì, scusa, scusa, finisci, finisci. Allora, lei, bella, nella sua leggerezza, nella sua gioia, decide di ballare sotto la pioggia, criticata per questo perché madre, poi sempre su quel prato è successo di tutto, abbiamo visto il bacio tra loro, tra Soleil e Dalia e nessuno ha criticato. Ma era per un altro motivo però, Adriana. Adriana era per un altro motivo però, era appena uscito Nicola, che era devastato. Non era uscito, non era uscito, era in casa, era in casa, stava bene e lei di una volta è andata da lui a vedere come stava. Come per esempio con Manuel, ha passato le nottate e non si è visto a mettere la pezza fredda in testa tutta la notte a Mandel. Sì, però poi dopo lo ritrovi. Non è che c'erano gli altri. E' vero anche tutti gli altri, i fenomeni. Ma lo fanno tutti. Lei però era lì vicino a Manuel tutta la notte a mettere la pezza fredda come una madre. Ma nessuno mette in evidenza quanto brava è stata in altri casi. perché lo fa lei, lo mette in evidenza in continuazione. E' sempre a criticarla.